Io faccio un film all'anno, non ne faccio più. La nuova generazione, io vedo, io ho fermato anche dei miei amici, dei miei colleghi giovani, ho detto voi siete dei matti, perché a me Nino Manfredi all'epoca loro mi disse se tu diventi un attore di cassetta, un attore, devi fare un film all'anno, non puoi fare sei film. Io vedo che i nuovi attori, uno ne fa sei, l'altro ne fa cinque, poi sembrano tutti uguali, sembrano tutti allo stesso film. Io adesso sto facendo Zellig, dopo Zellig farò il teatro, mi hanno chiesto di doppiare un cartone animato, ho cercato sempre di differenziare e non fare più di un film. Questo credo che sia il segreto, fare sempre la stessa cosa, ad esempio io quest'anno ho fatto una cosa completamente diversa, ho fatto cinque puntate di una fiction americana che si chiama Mozart in the Jungle con Gabriel Garcia, in America è uscito adesso, quindi cerco di cambiare, se facessi sempre il film di Natale e basta, forse alla fine sarebbe uno stanca. Perché insomma io prima direvo il cinema lettore è finito, basta con i film di Natale, poi li fanno tutti. Prima facevo solo gli eboldi, adesso guardi sono, sette, otto, tutti fanno il cinema lettore, anche gli autori sono arrivati a fare il cinema lettore, anche gli attori che lavoravano prima con gli autori fanno il cinema lettore. Poi anche non è che sono tanto diversi film comici che sono usciti prima, purtroppo non sono andati bene, ma insomma erano dei film comici, quindi non... E questo non è una sola, questo è un bel film. C'è a belle col buco, non è che riescono sempre, questa è riuscita bene, sono contento che Fausto e Marco mi hanno dato questa possibilità e la Warner con il quale io inizio questa collaborazione, sono felice perché mi hanno dato l'opportunità di fare una cosa diversa, ecco. Addirittura io faccio sempre i ruoli del borghese, no, del dentista, l'avvocato, adesso che ho un'età non faccio più, diciamo, sempre i miei, quello che ha la storia d'amore, ma sono un padre di famiglia.